Esaminata la brocca dal maestro d'armi, dal maestro di campo e dai responsabili dei quattro compaloni affinché nel dolo e con rettitudine lo regolamento dell'opalio sia stato osservato con inchierezza. Noi, Paolo Deligianni, compalonieri delle contrade, decretiamo che nella terza edizione dell'opalio delle contrade dello santo Paolino risulta quarto ete migliore Gianluca Bertonucci dello confalone del qualcuno, terzo ete migliore Cristina Fenili dello confalone del Sirena. Secondo ete migliore, Diletta Delidemi. Primo ete migliore su tutti, Filippo De di Rossi. Grazie! Grazie! Lo conferone con i punteggi maggiori sugli altri e a cui per tanto l'opalio sarà segnato, è il confalone della luna con 98 punti. Allora, questa è un'improvvisazione mia, al capitano della contrada della luna che ha vinto, ti conferiamo l'onore, l'onore di tagliare l'erba col frullino con il frullino. Grazie! 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 Vieni! 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 Ha guardato anche lui? riproviamo ok